Allora racconta a zio Domenico, a nonno Domenico, dov'è che sei stata? Io sono stata in Croazia, a fare la seconda luna di miele con lo zio. E sto incinta. E che cos'è? Perché zio Peppino ha preso il Viagra e è andato a tosse. E ha fatto la festa. E mi ha schiacciato la pancia. Non devi dire in dialena. Ma cazzate la venta, tu non dici che canate ma cazzate la venta, non dici. Domenico, vi vogliamo a Bari. Quando? Quando? Come? Vi vogliamo a Bari. A te e a Tina. Vi vogliamo a Bari. Di a Tina. Ciò che vuole a Bari è che prendi l'aereo e vieni a Bari. Non devi fare un passo. A casa mia c'è il gabinetto, c'è tutto. C'è anche il gabinetto. Dov'è? 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 Ah vabbè Enzo, dai un messaggio a zio Domenico. Allora, volevamo festeggiare con te in questo posto i tuoi 70 anni. Abbiamo capito che per quest'anno non si può fare. Abbiamo deciso di rimandarlo a un altro anno, a un'altra circostanza, più tranquilla, più serena. Con la speranza che vi decidete di scendere tutti quanti. Un bacio. Forza Juve. E forza Juve sempre. Forza Juve sempre. Sempre. Forza Juve sempre. Dov'è zio Beppe? Zio Beppe? Devi lasciare un video messaggio al nonno Domenico e dire che avete una partita a carte in sospeso, no? È un giro sul gommone. Abbiamo una partita a carte in sospeso? Certo. Così, a ricordare i vecchi tempi. Fai un saluto al nonno Domenico. Ciao Domenico e Tina. Io pensavo che venivate a Bari, comunque sarà per la prossima occasione. Comunque non ti scordare che c'è sempre una partita a sospeso, non al calcio, al pallone, alla scopa scientifica. A posto. Ok? Ok. Alla scopa scientifica. Alla scopa scientifica. Alla aspirapolvere elettrica. Alla aspirapolvere elettrica, brava. Dov'è? Dov'è Giannino? Vai Anna, salutaggio Domenico. Ciao Valentino. Ciao Zio. Ciao. Noi ti aspettiamo, lo dico pure io. Ancora non basta. Beh, aspetta. Dov'è Giannino? Dov'è Giannino? Dov'è Giannino? Anche tu.